Luca Telese, La scorta di Enrico, perché questo libro? Perché erano un gruppo di persone, tutti umili, tutti figli del popolo, che seguirono Berlinguer negli anni di piombo. Arrivarono minacce, alcune impreviste, stragi, bombe, terrorismo, e questo gruppo visse praticamente 24 ore su 24 con Berlinguer e diventò quasi una famiglia allargata. Raccontare la storia di questi 12 anni, dalla nascita della scorta fino alla morte di Berlinguer, 14 se vogliamo, vuol dire raccontare uno dei periodi più densi, drammatici, ma anche belli della storia italiana. Chiaramente è tutto raccontato qui, in questo libro, se le dovessi chiedere in 30 secondi, 30, il capitolo che l'ha fatta soffrire di più nel fare questo libro? Beh, erano tre generazioni di militanti, i più anziani erano partigiani, gli altri erano dei militanti più giovani, ma il capitolo più drammatico forse è quello in cui due di loro, uno è Roberto Bertuzzi, che è qui questa sera, si trovano a Padova, lo erano protetto da qualunque cosa e Berlinguer era un ictus. Lo portano in stanza, Berlinguer si addormenta, loro pensano meno male, così si riprende, perché non hanno conoscenze mediche, entra un primario dell'ospedale di Padova, gli fa un test, il test di Babischi, cioè lo punge con un ago sui piedi e se il piede si contrae vuol dire che è un sonno sano, se non si contrae vuol dire che c'è una lesione cerebrale, si gira verso i loro e gli dice ictus. Ecco, in quel momento loro sono crollati, hanno pensato è finita. 5-0